che i motori rappresentino una passione che accende i cuori di tante persone lo si intuisce anche all'inaugurazione di questa officina che vede tra i suoi clienti e frequentatori gli amanti del mondo delle quattro ruote e se queste ruote sono piccole come quelle del go kart la passione cresci ancora di più il marchio praga è un totem riconosciuto il telaio della macchina campione del mondo ancora di più la competenza e l'amore per questo sport fatto di grasso e di motori la vedi la senti e la percepisci nelle parole e nei modi di tutte le persone che gravitano intorno a questo mondo beh cosa dire del marchio praga innanzitutto che noi ci crediamo tantissimo perché in effetti ad oggi siamo qui per puntare su persone qualificate come il nostro gusto di braccio che siamo voluti venire a trovare in questa sua inaugurazione il marchio praga per noi è importante come è importante la nostra azienda spendo una parola anche per l'azienda che diciamo fa parte del gruppo praga che i pick up insieme a ok one insieme a tante poi altre realtà che comprendono quello che può essere l'aspetto corse su più profili l'automobile da corsa il kart è tutto quello che è un mondo di passione che è un mondo diciamo che accomuna tante persone tanta gente in particolare chi è veramente appassionato questo in effetti è il telaio che ha vinto quest'anno una classe importante la capa z1 con un pilota di tutto rispetto che baslamer e ci ha dato modo di farci conoscere considerato che siamo un'azienda nuova un'azienda presente sul mercato poi da non chissà quanti anni da poco tempo a quello che possiamo dire tanti perché l'interesse che arriva in azienda per questo prodotto è tanto e vogliamo sperare che sia un qualcosa che può anche crescere nel tempo siamo qua davanti al telaio praga dragon prodotto appunto dalla nostra azienda su concessione della praga e come potete vedere questa versione è in allestimento kz presenta prima di tutto rispetto agli altri modelli kf monomarcia una leva del cambio con la leva che poi andrà al ritorno del motore un impianto frenante anteriore con dischi autoventilati un impianto posteriore comune anche ai modelli monomarcia con disco da 192 e posteriore sempre autoventilato in ghisa cerchi completamente in magnesio da 210 al posteriore 130 all'anteriore carenature di nuova di nuova omologa del 2014 tra l'altro prodotte qua vicino a castellamonte dalla kg con adesivi cromatura della praga karting abbiamo aperto appunto questa nuova realtà grazie alla passione mia e di mio fratello e grazie soprattutto alla pazienza di nostro padre siamo riusciti a costruire questa realtà che è il karting nel biellese grazie anche all'azienda e il marchio praga che ci ha dato la disponibilità e grazie a molti gli appassionati che ci seguono in tutte le piste e in tutte le gare a cui noi partecipiamo l'appassionato io spero proprio che quando arrivi in questa vicina rimanga abbagliato e stupito dai nostri mezzi che sono qua appunto esposti e che attiri la passione per questo sport per questa appunto passione noi abbiamo già un team corse che appunto fa parte della nuova DB motorsport e noi seguiamo tutti i nostri appassionati e piloti in tutte le gare del campionato regionale car sport e campionati italiani e anche fuori dall'italia volendo provare basta appunto andare su internet sul nostro sito e appunto ricercare tutti i numeri di telefono e far sì che noi siamo a loro disposizione per far sì che provare nel marchio praga i nostri chassis che sono al top diciamo io mi occupo mi occupo diciamo della guida di portare avanti un nome di un'azienda all'interno di un racing team quindi di pilotare questi go kart ad alti livelli qual è il nostro campionato che quest'anno andremo a fare 2013 due cui abbiamo anche già firmato dei contratti con degli altri piloti privati che utilizzeranno i nostri marchi quindi praga motorizzati tm o yame in entrambe le categorie monomarce col cambio perché io corro io corro per il semplice fatto che vabbè ho iniziato quando avevo dieci anni quindi ho qualche anno alle spalle di esperienza e sono arrivato a un livello anche europeo mondiale mi trovo adesso a correre in questi campionati per portare come ho già detto prima alto il nome della nuova di bimoto sport adrenalina palla e gas sempre aperto quindi sono cose che non si possono raccontare se non le non le vivi da dentro perché alla fine cosa ti dà il go kart a livello emotivo quant'altro è indescrivibile la velocità non la senti all'interno del go kart il sorpasso lo sapori perché nel momento in cui ti trovi a fare un sorpasso è come se hai vinto una gara le gare sono fatte da 15 giri capitato anche in alcune gare dove partendo ultimo sono finito terzo a un italiano del 2006 e lì è stata la la cosa più bella che il go kart m'ha potuto dare da quando ho l'età della ragione ho solo sentito parlare sempre di automobilismo e sono cresciuto in questo ambiente e con i genitori che ti tramandavano le imprese di trossi di di varze di nuvolari e così via e poi poi praticamente praticamente lo sport ufficiale biellese è l'automobilismo credo sia proprio a parte il carattere biellese che è un carattere abbastanza tosto però è proprio questa tradizione grandissima che abbiamo e che si tramanda da padre in figlio e praticamente ce l'abbiamo nel sangue un po' tutti grazie a tutti grazie a tutti